Buongiorno, mi chiamo Akraf, sono Product Manager per intrusione IoT all'interno del team ByDemes. In questo video vedremo l'integrazione della serratura W-Bolt con i pannelli Vesta. Questa serratura è integrata tramite il protocollo ZigBee, cioè è un'integrazione diretta dal pannello di controllo alla serratura. Non dipendiamo da nessun router, nessun hub, ne abbiamo bisogno di un accesso a internet per avere la connettività nella serratura, ma l'integrazione è diretta. Attraverso il protocollo ZigBee possiamo inviare azioni di apertura e chiusura e possiamo anche ricevere eventi o segnali dalla serratura stessa. Ad esempio, il livello di copertura del segnale, il livello della batteria, lo stato di apertura o chiusura e il segnale di vibrazione se qualcuno tenta di sabotare la serratura bussando. Una volta aggiunta la serratura al pannello Vesta, abbiamo il controllo con tutte le regole automatiche che il sistema consente anche dall'applicazione Vesta. In questo caso abbiamo la tastiera a sfioramento, possiamo aprire la serratura. In questo caso l'apertura verrà effettuata. Possiamo anche programmare la chiusura automatica che in caso di apertura della serratura la blocca automaticamente. E possiamo anche integrarla con i videocitofoni. Nel caso di una chiamata al videocitofono, possiamo collegare direttamente la serratura in modo che l'apertura venga eseguita quando si preme il pulsante di apertura. Proviamo il campanello video. In questo caso riceviamo la chiamata e abbiamo un pulsante per aprire la porta. Selezioniamo Open e abbiamo programmato l'apertura e la chiusura. Possiamo anche vedere lo stato della serratura in tempo reale dall'applicazione e dai sistemi Vesta. Possiamo vedere se è bloccata o sbloccata. Nel caso di un'apertura manuale, possiamo vedere sulla tastiera lo stato di apertura della serratura, che può essere visualizzata da remoto, semplificando così l'intera parte di monitoraggio. Ora vedremo un test di vibrazione della serratura. Genereremo un rilevamento di vibrazione e vedremo come il pannello Vesta può attivare automaticamente l'allarme. E può anche eseguire un'automazione nelle regole come lo spegnimento delle luci. Poi genereremo una vibrazione come se fossimo degli intrusi. A questo punto scatta l'allarme. Tutte le luci vengono spente.